La sfida alla racket del pizzo si consuma anche attorno ad una tavola imbandita e questo è il significato della cena di stasera che avrà come commensali gli imprenditori che hanno trovato il coraggio di denunciare minacce di intimidazione il catanese Andreo Vecchio e il palermitano Vincenzo Conticello, preso ormai come esempio di rivolta al pizzo in Sicilia. I fratelli Fabio e Vincenzo Conticello testa il processo per estorsioni in corsa a Palermo contro i loro presunti esattori riconosciuti nell'aula di tribunale durante l'ultima udienza riceveranno nel loro locale l'antica focacceria San Francesco Andrea Vecchio, il presidente del lance di Catania che nelle scorse settimane ha subito quattro intimidazioni in quattro giorni. L'imprenditore sarà accompagnato dal figlio Gaetano e sarà accolto nello storico locale palermitano dove, dopo le richieste estorsive denunciate dai fratelli Conticello, stazione in pianta stabile una gazzella dei carabinieri. Dopo le minacce e le intimidazioni, i comitati per l'ordine della sicurezza di Palermo e Catania hanno assegnato una tutela ai due imprenditori. Dalla vicenda di Andrea Vecchio è cominciata la mobilitazione di Confindustria Sicilia che è deciso di espellere dall'associazione gli iscritti che pagano il pizzo. Grazie a tutti.